Cari amici di Democrazia, Sovrana e Popolare, buona domenica. Come sapete nei giorni scorsi YouTube ha deciso per l'ennesima volta di sospendere Visione TV per una settimana. Ci accusano falsamente di disinformare in ambito medico, sono andati a riprendere vecchi video alcuni di anni fa e poi hanno contestato la nostra idea di rilanciare, di far vedere la prima pagina di un giornale cartaceo, La Verità, che il 10 aprile del 2024 puntava il dito contro l'operato del Ministro Speranza. Io non vorrei che noi ci abituassimo a questo clima di violenza e di censura. Apprezzo le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella, che negli ultimi giorni si è posto come garante dell'articolo 21 della nostra Costituzione, spiegando che è correttamente avversivo mettere in discussione la possibilità di esporre opinioni, di fare inchieste, di offrire punti di vista che non sono graditi al potere. Mi auguro però che questo principio, che questo concetto non valga soltanto per una cerchia ristretta di ottimati. Mi auguro che la difesa della libertà di pensiero ed espressione non esista soltanto per John Elkan, per Molinari, per la stampa e per tutto il circuito semi-informativo che fa capo a poteri liberali, progressisti e globalisti che evidentemente intendono la conquista dei diritti in termini molto restrittivi. esiste cioè chiaramente una minoranza composta da un'elite del denaro che si sente e si comporta come se fosse una umanità separata. Solo loro sono davvero liberi, solo loro sono davvero uguali, solo loro si avvertono come classe dominante. Tutti gli altri invece, tutti quelli che non fanno parte di questa nuova aristocrazia del denaro, conservano dei diritti soltanto sul piano formale. Hanno cioè in teoria il diritto di esprimere un'opinione, hanno cioè in teoria il diritto di utilizzare gli strumenti che la modernità mette a disposizione di tutti per far conoscere il loro punto di vista ma questo, questo diritto può sussistere soltanto fin tanto che gli aristocratici, i padroni veri, te lo riconoscono. Quando non te lo riconoscono più possono arbitrariamente tapparti la bocca, impedire di parlare, persino distruggere da un giorno all'altro, cancellare canali come Visione TV che vantano 260 mila iscritti e Visione TV rappresenta e condensa in un unico canale digitale ore e ore, migliaia di ore di lavoro, interviste, approfondimenti, analisi che rappresentano certamente un patrimonio culturale per tutti quelli che amano davvero la libertà di pensiero e di espressione. Alcuni dicono ma si tratta di società private che possono fare quello che vogliono. Ecco noi respingiamo con forza questa analisi che reputiamo minimalista e sbagliata. Queste società svolgono una funzione di interesse pubblico, la comunicazione oramai passa prevalentemente in rete, questi signori Google, Facebook sono di fatto dei monopolisti, hanno sfruttato ingenti finanziamenti pubblici per migliorare, per sfruttare tecnologie avanzatissime che poi sfruttano però per finalità di arricchimento esclusivamente privato e facendo finta di rappresentare un punto di vista neutro improntato alla difesa del rispetto della comunicazione, fanno invece politica imponendo modelli di teoria e di pensiero che di fatto rispondono ad una logica arbitraria e vengono invece presentati come valori imprescindibili per chiunque ad ogni latitudine. Ecco noi chiediamo alle istituzioni di non permettere che Visione TV venga colpita in maniera così strumentale. Noi non vogliamo favori, non vogliamo aiuti da nessuno, noi siamo demonetizzati da 4 anni, non abbiamo fare le vittime, abbiamo lavorato in questi anni dando voce a persone libere che esponendosi, rischiando, hanno raccontato meglio di altri quello che succedeva nel mondo. Rivendico ad esempio con grande orgoglio le inchieste che Visione TV è riuscita a realizzare subito dopo lo scoppio della guerra nel Donbass, quando grazie a Giorgio Bianchi, armati, animati soltanto da passione e da desiderio di verità, siamo riusciti a mani nude a demistificare i clamorosi imbrogli veicolati dal giornalismo cosiddetto tradizionale. Abbiamo intervistato Mariana che era stata presentata dai giornalisti del gruppo Jedi di Elkan come vittima e ostaggio dei russi, la quale invece ha ai nostri microfoni placidamente dichiarato di non essersi mai sentita vittima e ostaggio di Mosca. Siamo riusciti a fare giornalismo libero, non prendiamo ordini dai servizi segreti, italiani o stranieri, non prendiamo denari da nessuno, non siamo finanziati da nessuna ONG, non abbiamo padroni, non dobbiamo rispondere a nessuno se non al nostro pubblico e alla nostra coscienza. La difesa della nostra libertà, la difesa del nostro modo di fare giornalismo ci ha creato tanti nemici non soltanto nel mondo del mainstream e del sistema, quelli li diamo per scontati, ma in questi anni la forza, la chiarezza della nostra impostazione ha determinato la crescita e la nascita di tanti nemici che si presentano come finti antisistema, persone che sembrano ossessionate prevalentemente da Visione TV e che anziché combattere il nemico vero rappresentato dai vari Draghi, Speranza, Conte, Tajani e compagnia cantante, preferisse invece puntare il dito contro la nostra emittente e contro le nostre proposte politiche. Fortunatamente però c'è un popolo che segue, apprezza e difende Visione TV. Migliaia di persone vogliono continuare ad ascoltare la nostra voce, migliaia di cittadini hanno compreso la differenza fra il nostro modo di raccontare il mondo e le notizie e quello del giornalismo cosiddetto mainstream. La fiducia che abbiamo conquistato nei confronti di queste persone è la nostra più grande ricchezza, il nostro più grande tesoro. Non abbiamo paura della violenza di Youtube, non abbiamo paura della malizia di questi poteri profondi che facendo finta di combattere le fake news attraverso strumenti pessimi e criminali come il Digital Service Act vogliono in realtà imporre una sorta di dittatura del politicamente corretto. Fino a quando noi godremo del sostegno delle persone che da anni ci seguono e ci apprezzano e ci aiutano a rimanere finanziariamente in sella, noi andremo avanti senza paura, cercando fino in fondo di rappresentare quella parte di Italia che il potere profondo vuole vedere ridotta al silenzio, alla incapacità di reagire sul piano democratico, sul piano culturale e perché no, anche sul piano pubblico e politico. Per cui io voglio chiudere questa comunicazione domenicale invitando tutti i nostri amici, tutti quelli che ci seguono, tutte le persone che vorrebbero costruire un'Italia diversa, dove i diritti valgono per tutti e non solo per la famiglia Elca Nagnelli, dove la possibilità di incidere sui progesti democratici è garantita realmente a forze politiche sane che non rispondono né alla Nato sul piano militare né alla BCE sul piano economico finanziario. Mi rivolgo a tutti quei cittadini che non si sono rassegnati, a tutti quelli che hanno superato lo shock per essere stati traditi e abbandonati da partiti fintamente antisistema come il Movimento 5 Stelle, mi rivolgo a tutte quelle persone che vogliono provare a cambiare il mondo e non soltanto ad interpretarlo, mi rivolgo ad ognuno di voi. Non fatevi battere dall'amarezza, rispondiamo colpo su colpo, siamo dalla parte giusta della storia, le nostre idee vinceranno inerzialmente, ma la bontà delle nostre idee va sospinta con la forza delle nostre azioni, con la nostra capacità di combattere, di soffrire, di organizzarci e di lavorare per far sì, perlomeno, che i manovratori abbiano vita dura. Per cui non scoraggiatevi, di fronte all'ennesima violenza e prepotenza subita, noi reagiremo come sempre, raddoppiando i nostri sforzi, migliorando la nostra capacità di comunicazione, lavorando se necessario 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, senza mai andare in vacanza. La reazione di questo sistema conferma che siamo sulla strada giusta. La forza delle nostre prospettive si vede proprio dal livello di inquietudine che pervade un sistema di potere morente, che dopo aver mentito sulla questione vaccinale, dopo aver mentito sul vero andamento della guerra russo-ucraina, dopo aver fallito rispetto alla possibilità di eliminare Trump con un colpo di rivoltella, adesso diventa più feroce, più violento, proprio perché in preda alla paura. La nostra serenità, la nostra consapevolezza, la nostra forza e il nostro coraggio sono e saranno sempre più forti di ogni meschino tentativo di tapparsi la bocca. Grazie.